Già si parla dell'isola dei famosi VIP 2019 e oltre al totonomi ci sono anche le indiscrezioni su chi conduce, chi fa i collegamenti dalle Honduras. Ebbene, Alfonso Signorini dal suo settimanale, chi dà l'annuncio ufficiale? Addio a Stefano De Martino. Infatti non sarà l'ex concorrente di Amici, l'ex ballerino di Amici, né tantomeno l'ex marito di Belai Rodriguez a fare i collegamenti dalle Honduras, ma sarà Alvin, una vecchia conoscenza del programma. Questa è la notizia ufficiale, a condurre la trasmissione ritroveremo ancora una volta Alessia Marcuzzi. E chiaramente se questi sono dei punti certi, dei punti fermi della trasmissione, adesso parte il totonomi su chi saranno i naufraghi di questa nuova edizione che ci allietteranno con le loro esperienze. Ebbene, uno dei nomi accreditati è quello di Geremia Rodriguez, che però è ostacolato dalla sorella Belen, ma pensate, lei l'ha fatta, non vuole che il fratello ci vada. Altri nomi accreditati sono quelli di Giulia De Lellis e Ignazio Moser, che insieme a Geremia s'hanno già fatto un altro reality e potrebbero quindi farne un secondo, chi lo sa. Queste sono soltanto supposizioni, una cosa è certa, ciao Stefano, benvenuto Alvin. Grazie a tutti.